questo programma è offerto da costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione monoblocchi per zona cottura lavello frigoritero o congelatore lavastoviglie da 45 centimetri con trasporto e montaggio finalmente qui li scegliete voi facciamo i conti porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso fba di bruno corso potenza 183 angolo di alucento torino ladies and gentlemen how much fish could bobby fish fry if bobby fish could fry fish musica 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 lunedì 24 febbraio 2020 benvenuti ad una nuova edizione di breast in caffè nuova edizione e probabilmente ultima edizione di Brest in Caffè benvenuti negli studi bunker di Tbilisi esatto, non abbiamo il pubblico, non ce l'abbiamo neanche normalmente però in particolare il pubblico solitamente c'è però non c'è, non c'è nessun pubblico non c'è nessun pubblico non c'è normalmente ma in particolare oggi d'altronde siamo qui nello studio bunker tutti tutti qua che non possiamo uscire troppo fuori ormai è il deserto e ricordiamo sempre che mai scorderemo l'attimo la terra che tremò come no, esatto l'aria si incendiò e poi l'aria non si è incendiata ma la psicosi è a livelli fuori, ma ricordiamo sempre che Ken sei tu, fantastico guerriero la terra esiste da miliardi di anni diciamo, come dicono gli inglesi it's been a good one cioè, è stato bello ma siamo giunti alla fine Walking Dead ci ha comunque addestrato sentiamo come andare avanti Walking Dead e Zombieland per essere precisi ricordatevi sempre il doppio colpo che è molto importante se vedete un infetto da coronavirus se vedete Bill Murray se vedete Bill Murray non sparategli perché quello è Bill Murray esatto ed è vivo soprattutto ed è vivo non è uno zombie no vabbè stiamo ovviamente scherzando cercando di sdrammatizzare un pochettino la situazione perché comunque c'è la psicosi c'è la psicosi c'è una psicosi assurda assurdamente assurda per carità allora facciamo un attimo una distinzione la preoccupazione è normale ci mancherebbe ed è giusto anche preoccuparsi ed è giusto anche premonirsi da qui alla psicosi secondo me ce ne passa perché comunque c'è l'influenza normale fa più vittime durante l'anno se per vedere i numeri più che altro numeri alla mano l'influenza normale fa più morti nel mondo e anche in Italia è la tipica secondo me e poi anche come ben dice la primaria la primaria virologa del sacco che sta comunque studiando che sta scrivendo su facebook in queste ore la cosa purtroppo siamo è comunque un batterio contagioso è un virus che fa parte della famiglia dei coronavirus chiamati così perché sono a forma di corona quando si guarda al microscopio che può causare qualunque cosa può causare dal dal raffreddore alla sarsa addirittura però dipende dipende dal diciamo dalla non dico dalla predisposizione però comunque dalla dalla condizione fisica sostanzialmente della persona non a caso le vittime sono quasi tutte persone mia madre è il raffreddore io in questo momento ho un po' di mal di gola ma io venerdì sera venerdì sera ho fatto un concerto dobbiamo già allertare taffo esatto io sono stato a un concerto venerdì sera sono andato dal locale alla macchina dalla macchina al locale senza giubbotto perché così non pagavo il guardaroba sono uscito distrutto dal concerto e sudato e a febbraio non è una grandissima idea ma anche detto esatto però c'è probabilmente quello se ovviamente poi è logico se ci si se si aggrava e tutto il resto sento che non passa dopo un po' di giorni è logico che magari chiami qualcuno però io sono estremamente sicuro cioè estremamente sicuro no però io sono abbastanza sicuro che tipo i 150.000 casi che stanno uscendo adesso magari alcuni non sono neanche dei veri casi è semplicemente gente che è stata è andata in ospedale e gli hanno detto va vi teniamo dentro perché potrebbe essere quello poi tra l'altro i dati i dati che sono usciti nel mondo cioè la percentuale di morte per carità è anche una vittima una vittima solo è comunque preoccupante stiamo parlando del 2% cioè non stiamo parlando di numeri chiaro su 6 miliardi il 2% è comunque è comunque un numero alto per l'amor di Dio non lo metto in dubbio però però diciamo stiamo un attimo calmi è giù ripeto è giù la precauzione la precauzione non è mai troppa ed è assolutamente giusta da qui alla psicosi andare a fare le scorte le scorte diciamo di Amuchina o robe varie cioè primo dovevate pensarci prima secondo adesso adesso mi sa che è un po' tardi adesso chiudere tutti i centri di aggregazione perché è tutto lì eh sì anche rinviare le partite come ben ti insegnano i più grandi film sugli zombie sugli zombie o sull'epidemia i primi posti dove devi andare sono il centro commerciale o il pub esatto quelli sono regolarmente aperti quindi per ora poi vedremo tra non molto comunque vabbè i consigli sono sempre gli stessi andate sul sito del ministero della sanità vedete tutte quelle tutte le cose che dovete seguire lavatevi le mani mi raccomando se andate in pizzeria e andate in bagno lavatevi le mani so che molti di voi non lo fanno perché vi vedo quando quando siete in bagno vi vedo che non vi lavate le mani so chi siete non vi preoccupate io me le lavo anch'io me le lavo ma ci mancherebbe ancora scusami il discorso non è tanto bisogna lavarsi le mani non dovresti neanche pensarci a una roba del genere francamente adesso tutti che si lavano con la carta come si chiama con la smerigliatrice adesso adesso un po' tardi sfortunatamente sai cosa mi ricorda sto pensando la puntata la puntata dei simpson quando lisa fa credere a barth e omer di aver la lebra ecco adesso siamo a quel livello più o meno il livello in cui ci si accorge praticamente che c'è sta malattia e quindi ci si lava ci si copre tutto quanto per carità ripeto è normale fa parte della natura umana però insomma non voglio neanche minimizzare attenzione non voglio assolutamente minimizzare sto dicendo preoccuparsi è normale la psicosi è un'altra cosa cioè la psicosi siamo siamo già oltre tipo stamattina mio padre è andato è andato a un centro commerciale e non c'era più un china c'è proprio zero completamente completamente sparita dal centro commerciale vabbè adesso adesso vabbè speriamo che la cosa ovviamente si rientri nel ovviamente ci vorrà tempo non penso che sarà una cosa che si risolverà domani questo per ovvi motivi però però speriamo che comunque la cosa la cosa rientri con con il minore danno possibile se ci state ascoltando dalle zone che purtroppo sono sigillate in questo momento sigillate ci dispiace molto vi siamo vicini tenete duro speriamo che abbiate delle scorte diciamo di mangiare di film di videogiochi e robe simili speriamo comunque di agliettarvi per queste prossime due ore anche se all'inizio abbiamo un po' riso di questa cosa ci rendiamo conto che comunque in quella zona stiamo sigillando una regione stiamo sigillando la Lombardia anzi due la Lombardia e il Veneto in queste ore secondo me è follia però vabbè è stata presa questa decisione non diciamo non entro nei meandri della cosa siete dalle zone vicino alle zone dove ci sono stati i contagi siamo con voi ovviamente e speriamo che molto presto possiate tornare ad avere una vita il più normale possibile passiamo a cose più allegre fortunatamente oddio dobbiamo parlare di SmackDown però vabbè no scherzi a fare vabbè alla fine SmackDown lo limitiamo in tre minuti se andiamo vedere Carmella contro Naomi una merda detto proprio gentilmente e sono anche gentile nel definirlo una merda di match ha vinto Naomi Naomi affronterà Bayley a Super Showdown in Arabia Saudita dove lotteranno con il pigiama e senza trucco vediamo i capelli sono così vedere i capelli la cosa che mi fa ridere la prima cosa che ho pensato quando avevano annunciato che ci sarebbe stata Carmella è oh porca vacca Carmella struccata potrebbe regalare Carmella struccata ha postato delle foto delle struccate non è un mostro a livello di però per il cerone che le mettono addosso io pensavo che sarebbe stata molto più mostro è chiaro che quando è truccata ne ha un po' ne ha tantissimo sì per usare un eufemismo però lei non è una brutta ragazza anche senza diciamo anche senza senza gli effetti speciali mettiamola mettiamola così utilizziamo questo termine un po' un po' comico no se vuoi vedere nei omico diciamo senza senza parruccone queste cose queste cose qua che ovviamente le faranno togliere in Arabia Saudita per nuovi motivi lotteranno in pigiama probabilmente intanto dobbiamo fare dobbiamo fare anche la preview di quello show sì dobbiamo fare la preview di quello e la preview di Revolution che è in programma sabato prossimo tra l'altro probabilmente non lo commenteremo in diretta no esatto io sicuro non vado da Eric questo sabato perché abbiamo altri impegni sì esatto abbiamo altri impegni e io probabilmente non rientro neanche in tempo per il sabato me lo guardo magari me lo guardo domenica mattina sicuramente lo commenteremo poi nella prossima butata del caffè sì nella prossima butata del caffè dovremmo riuscire a commentare questo sicuramente perché comunque lo guardiamo il pay per due tornando a tornando a Smackdown Goldberg contro The Fiend hanno fatto un segmento che è durato tre minuti se andiamo a vedere perché hanno fatto entrare Goldberg gli hanno fatto fare un promo è stato interrotto da Farfa Fan House è arrivato The Fiend's Ring Spear tutti a casa sì Spear The Fiend è sparito e tutti a casa sì tra l'altro abbiamo un bel aggiornamento da parte di World Server pare che siano cambiati i piani per WrestleMania ancora una volta quindi Reigns contro Wyatt pare che non si faccia poi ovviamente da qui da qui ed aprile le cose possono cambiare moltissimo che non abbiano preso la decisione di dare il titolo a Goldberg e fare Goldberg contro Reigns e l'avevamo detto quando comunque quando avevano sancito questo match per Super Showdown l'avevamo detto che comunque Goldberg contro Reigns oggettivamente a livello economico a livello di ritorno è chiaramente un match molto più grande rispetto a Reigns contro Wyatt poi aggiungo poi un'ultima cosa che secondo me è più importante sì è un match inedito è un match che può tirare di più e questo è come si dice è fanese fa ridere che parliamo di Goldberg nel 2020 quello sicuramente se ci pensiamo però alla domanda alla domanda sai qual è il grande ti fermo un attimo sai qual è il grande paradosso che comunque stiamo parlando di Goldberg nel 2020 perché perché da quando da quando hanno fatto il match con con Lesnar Goldberg l'ha abbucato da dio bisogna bisogna a parte il match di Wrestlemania che comunque a quel punto doveva il match di Taker no io parlo sì vabbè quello lì vabbè lì è anche ne ho fregato tutto probabilmente in quel match chiaro che doveva perdere però era fregato anche tutto intendevo il match di Wrestlemania è forse stato tipo il match più bello di quelli esatto poi comunque doveva perdere però comunque a livello di utilizzo di Goldberg come attrazione speciale cioè l'ha abbucato la grande c'è poco da dire e quindi cioè la cosa che fa ridere è che questi qua hanno capito come bucare Goldberg quanto 14 anni dopo eh sì 14 anni dopo perché comunque lui era in WB nel 2003 quindi sì dal 2003 all'aprile 2004 praticamente però adesso loro come attrazione loro si possono spendere un Goldberg per esempio e ce lo possono spendere in modo efficace il pubblico crede in Goldberg nel 2020 proviamo di un Rester che ha 50 anni quindi non è che stiamo parlando di un volto nuovo capisci mettiamola così questo comunque importante la forza di Goldberg è sempre stata questa esatto cioè comunque anche negli anni negli anni 90 a fine anni 90 inizio 2000 quando Goldberg era al top la sua forza era questa assolutamente era essere era cioè non stanno facendo niente che non facesse la WCW ai tempi e questo ti fa comunque pensare a perché quando nel 2004 hanno avuto Goldberg non lo hanno trattato così l'hanno trattato in una maniera completamente diversa perché hanno fatto quegli errori lì che cosa è successo un po' vengono spiegate queste cose vengono leggermente spiegate nel WW24 che fecero su Goldberg e tra l'altro è molto bello se lo volete guardare è anche lui stesso che non aveva il giusto atteggiamento però diciamo che comunque c'era dall'altra parte eravamo ancora freschi della fine della Monday Night War era molto cameratismo esatto poi figurati c'era Triple H che in quel periodo era in delirio di onnipotenza quindi non doveva per forza ma non è solo quello secondo me è proprio se tu guardi Goldberg come l'hanno utilizzato dall'inizio c'è comunque è un chiaro trattamento di uno che era simbolo della WCW ed essendo simbolo della WCW dobbiamo ammazzarlo perché comunque abbiamo intramato nel cuore ricordati Stingo contro Triple H anni dopo che l'hanno tramutato di nuovo in Night contro Ro e hanno fatto vincere Triple H nel 2018 però lo sai però in realtà sai qual era il motivo per cui hanno fatto vincere Triple H veramente c'è sì sì l'ho capito c'era la Monday Night War però c'era anche un altro motivo sono d'accordo però ti dico è il concetto è il concetto comunque che essendo ah sì che ritirano fuori la DX e l'NWO con Sting che tra l'altro con Sting e l'NWO non c'entrava un cazzo perché non c'è mai entrato Sting e l'NWO cioè dobbiamo ok che dobbiamo far vincere Triple H perché comunque dobbiamo fare Triple H però nel frattempo lanciamo anche il messaggio che comunque la DX è superiore all'NWO perché la WWE ha vinto la guerra con la WCW cioè capisci che è da schizofrenia una cosa del genere nel 2000 cos'era 2015 cos'era Restylmania era 2015 2131 esatto che siamo alla 36 quest'anno cioè è un atteggiamento assurdo onestamente e non mi sorprende che che sia ancora adesso quello che ci sia ancora adesso quell'atteggiamento è che ci fosse nel 2003 quando praticamente la guerra era finita da due anni figurati poi cioè ripeto comunque per quanto ormai più per cioè gli credo ma non gli credo in molte occasioni in quello che dice perché comunque Gerico nell'ultimo periodo ne sta sparando veramente tantissime e così via però comunque nel libro lui racconta che comunque lui per uscire dal cameratismo che c'era nello spogliatoio lui XWCW ci ha messo una vita sì sì no vabbè ma il libro guarda il libro l'ha scritto prima comunque il libro secondo me è abbastanza onesto no no sì sì e poi alla fine la boiata gigante che ha sparato ultimamente è la storia del titolo intercontinente da Amazon quella sì io non ci credo anche se lo vedo poi magari l'avrà anche proposta però sicuramente gli avranno detto ma che cazzo dici ma sei scemo cioè noi dobbiamo proporre dobbiamo fare promozione a un titolo che non è nostro di una compagnia che ci fa concorrenza negli Stati Uniti no quello sì no più che altro più che altro no ma sai cosa più che altro il problema delle autobiografie sì è che molte volte sì devi farla peso ovviamente di tutte le cose ci sono degli esagerazioni assolutamente cioè se tu leggi la biografia di Gerico che comunque i primi due libri sono bellissimi e io le consiglio di leggere sono molto belli sono molto belli Lion's Tale e il secondo Lion's Tale è Undisputed no era The Best in the World and What I Have No Idea credo che sia quella è la terza ah la terza ok scusami errore mia scusami e poi c'è la quarta che non mi ricordo come si chiama che però non ho neanche guardato cioè non ho neanche preso la terza deve ancora uscire la quarta mi sembra non vorrei dire una cattura no guarda che ne ha fatti quattro non mi ricordo adesso vado un attimo oddio vado un attimo a vedere su Amazon sono sicurissimo che ne sono usciti quattro onestamente non ricordo quindi può e poi io la terza non la comprai perché era appena uscita in paper era appena uscita ed era soltanto non c'era in paperback e non c'evo voglia di prendere la cartonata allora vediamo un po' vediamo un po' i libri di Gerico eccoci qua allora allora noise a four letter word undisputed è la quarta ok noise a four letter word oh I failed spelling but succeeded in life eccolo qua questo è l'ultimo che è uscito da poco uscito relativamente poi c'è undisputed che era come diventare campione del mondo in 1372 piccoli passi anzi in 1372 facili passi alliance a stay che era il primo andisputed il secondo best in the world del terzo quindi noise a four letter word che è il che copre il periodo dal non lo dice qui nel allora alliance a stay il copre fino a che non va in WWE perché finisce con lui che debuta in WWE undisputed finisce con lui inizia con lui che è appena arrivato in WWE e l'inizio del secondo stint in WWE quindi praticamente a livello di carriera WWE finisce con il match di ritiro contro John Cena ok losers livers quello del 2007 no quando è 2007 2006 se non sbaglio 2006 se non ricordo un attimo di buono 2006 si perché poi lui ritorna nel 2008 è uscito nel 2017 questo praticamente si e quello dovrebbe coprire fino al 2017 e poi il resto dovrebbe coprire cioè in realtà l'ultimo se poi ne scriverà un altro ovviamente sarà tutto superiore dell'Aidabio per esempio si in teoria sono meno interessanti questi due libri infatti non li ho non ho avuto interesse a prenderli perché la storia recente chi se ne frega mettiamola così tra l'altro parlando di libri il 31 marzo c'è il nuovo libro di Jim Ross quello mi interessa particolarmente perché la prima parte copre fino al Slopper Knocker copre forse uno dei primi periodi in WWE lì il secondo dovrebbe coprire tutta l'attitud era praticamente comunque il periodo quello diciamo particolarmente particolarmente caldo esatto esattamente allora Slopper Knocker finisce aspetta Slopper Knocker My Life My Life in Wrestling poi c'è Under Black Hat che appunto è il periodo dovrebbe coprire il periodo successivo praticamente non ricordo quando finisce adesso perché ce l'ho tra l'altro devo rileggermelo però non devo riprendere praticamente quando finisce quello mi interessa molto secondo me Jim Ross mi interessa particolarmente tornando a noi tornando a diciamo tornando al discorso di Smackdown discorso relativo anche a Super Showdown tornando alla puntata che abbiamo visto questa settimana continua la storyline tra Otis e tra Otis Mandy Ziglar è chiaro che andiamo nella direzione che abbiamo detto la settimana scorsa bisogna capire se sarà un un mix tag match o un mix six man secondo me sarà six man perché comunque Taka continua comunque a intormettersi quindi mi sa che sarà un six man tag dovessi dire la resta il magna c'è rude Ziglar e Mandy scusami contro Mandy Otis e Tucker la storyline è più o meno quella che abbiamo detto stima scorsa è chiaro che c'è Sonia dietro a tutta questa questione non per gelosia dovessi dire ma possibilmente perché gli danneggia il brand si perché pensa che Otis non si meriti una come esatto sì esattamente esattamente l'idea che l'idea che ne è uscita è bello che mi sono fatto esattamente quindi Mandy che sta con Otis danneggia anche lei perché comunque lei è parte di Fire and Desire ed è un discorso esclusivamente di marketing sostanzialmente di freddo di freddo puro calcolo e di marketing ci sta sai cosa la cosa interessante è che fa ridere che è la storia la migliore dell'intera compagnia in questo momento dove si sai cosa sai che cosa è la cosa che mi fa più ridere a me in realtà di questa storyline è che probabilmente è una cosa molto da Vince questa cosa qua nel senso che ti ricordi quando dicevano che Vince cercava in tutti i modi di far splittare Lana e Rusev in storyline perché pensava che Lana non potesse stare con uno come Rusev e un po' la ricorda questa cosa qua ha queste fisse diciamo come posso dire Vince ha un pochettino queste fisse dovessi dire quindi non mi sorprende effettivamente però però diciamo che in questo caso come posso dire in questo caso sta funzionando sta dove no a parte quello ma volevo dire in questo caso comunque il lieto fine credo che ci sarà diciamo in questa situazione penso che comunque alla fine andrà a finire con poi Otis e Mandy che si mettono insieme poi vediamo come prosegue quanto meno la faccenda penso proprio di sì vedendo come sta dando la faida mi sembra abbastanza chiaro che alla fine verrà fuori che poi Mandy e Otis si mettono assieme poi magari finisce finisce tipo la settimana dopo non siamo molto compatibili ci lasciamo da amici senza litigare per forza senza girare a WrestleMania penso che finalmente vediamo un limone tra i due e vediamo che succede poi altro da dire per quanto riguarda SmackDown c'è da dire una cosa sono contento che comunque abbiano trovato qualcosa da fare a Otis perché a me piace molto lui cioè sia come personaggio ma anche sul ring Otis per essere quello che è non è male sì diciamo che è chiaro che secondo me lui in WWE più di un certo punto non può andare però ti gli dai titoli di coppia va bene però più di quello non puoi anzi una storia come questa comunque gli dà effettivamente più come posso dire gli dà più lati della personalità a livello della gimmick per fare un paragoni è un po' sono sono un po' i too cool di adesso questi due più o meno sì un po' più bushwhack più bushwhack grassi per essere precisi però però sì però nel senso sono un team che può andare over col pubblico può piacere però oltre a quello non gli faranno mai fare niente ovviamente chiaro chiaramente poi stavo cercando altre cose bello il messo d'apertura uso se New Day contro Don Ziegler Rude Miz e Morrison c'è bello alla fine niente di che non si sia già visto praticamente tra questi quattro team sai cosa ho odiato l'ho odiato tantissimo la parte iniziale di quel segmento con praticamente a Miz e Morrison non hanno fatto un bel servizio con quel segmento dovessi dire no ma più che altro c'è perché farmi nove minuti di promo con il New Day e e e gli Usos che detto in maniera molto volgare si spompinano la vicenda perché quello è che facevano oddio no perché comunque Big E ha ricordato agli Usos che comunque loro hanno hanno un regno titolato di più rispetto rispetto ai gemelli e quindi sono migliori di loro cioè è la classica cosa che dici col sorriso che è passiva aggressiva però se guardi cioè per creare dissenso praticamente tra tra i due non è un turn perché comunque non lo è però è comunque una cosa che serve probabilmente poi a far ripartire una rivalità sarebbe stupido sarebbe stupido girare il New Day assolutamente assolutamente no poi mi sembra abbastanza non voglio dire che mi sembra chiaro però la sensazione che ho è che a Wrestlemania vedremo un TLC tra questi team o comunque o anche tra altri team coinvolti non penso che saranno solo questi tre praticamente coinvolti lo spero più che altro è potenzialmente essere un buonissimo match tra questi tre quindi Wrestlemania tra l'altro la carta se dovessimo ipotizzare tutti i vari match che ci possono essere veramente dura otto ore quest'anno Wrestlemania contando le due ore di pre-show e contando anche le ore principali di show a parte che dobbiamo ancora sapere dove andrà in onda Wrestlemania se andrà in onda sul network o se si torna in pay per view e si torna diciamo al come posso dire al al vecchio sistema perché pare che stiano parlando con ESPN Plus per diciamo per andare lì vediamo con quali pay per view se con i Big Four se con cioè se loro trovano un accordo con ESPN Plus Wrestlemania va su ESPN Plus vediamo a quale prezzo ovviamente perché comunque dopo anni dopo sei anni di pay per view a dieci dollari più tutta la programmazione sarà dura convincere il pubblico americano a comparsi Wrestlemania a cinquanta sessanta dollari quello quello che è secondo me sarà molto complicato francamente una cosa una cosa di questo tipo quindi lo si fa per la UFC lo si fa per come per esempio l'incontro di Wilder e Fury ieri sera Green Bay per view che secondo me è andato molto bene a livello di a livello di buy rate però Wrestlemania è un prodotto oggettivamente la WWE è un prodotto freddo è il solito discorso che abbiamo fatto in più ripeto è sei anni che comunque tu dici al pubblico che il tuo prodotto vale dieci dollari e tu all'improvviso ne chiedi sessanta o cinquanta o quaranta quello che è cioè è un discorso non è facile come cosa non è facile convincere la gente a fare un ragionamento di questo tipo e secondo me non ce la faranno se fanno 100-200 mila acquisti tanto li ho guadagnato ma sicuramente non credo si possono aspettare grandi numeri da una mossa di questo tipo ma è chiaro che a loro inteso come WWE di una mossa del genere non gliene frega assolutamente niente cioè è un discorso del tipo la UFC prende 200 milioni all'anno da ESPN Plus e poi tutti i guadagni se li pappa ESPN perché tanto la UFC ha il guadagno garantito noi cerchiamo di fare una cosa del genere cerchiamo di guadagnare 100-150 quello che è adesso non so quanto ESPN potrà offrire la WWE per un accordo che ci dia dei soldi garantiti per i pay-per-view poi sta ESPN a piazzare i pay-per-view e guadagnarci sopra sostanzialmente noi ce ne frega il nostro compito finisce nel momento in cui noi vendiamo i diritti dei pay-per-view in streaming a un provider o a un provider via cavo o quello che è vediamo adesso cosa succede dovranno anche fare in fretta perché siamo quasi a fine febbraio il resta del mania tra un mese quindi vediamo cosa se vogliono partire effettivamente con il resta del mania se non vogliono partire con il resta del mania vediamo che succederà naturalmente e vediamo anche in che modo noi europei dovremmo comprarci i pay-per-view tra l'altro notizia di questa settimana salutiamo la germania per quanto riguarda per quanto riguarda sky la wb con sky germania finirà alla fine di marzo cioè praticamente il resta del mania in diretta in televisione in germania non andrà in onda andrà in onda solamente sul wb network non sarà più possibile comprarlo attraverso sky che andrà a mandare i pay-per-view i pay-per-view dell'aew tra l'altro da questo weekend cioè dal prossimo weekend da revolution andrà in onda anche i pay-per-view dell'aew perché comunque l'impegno con i pay-per-view dell'aew finirà con no escape se ricordo bene che è quello che è l'elimination chamber che in germania ovviamente non si può chiamare in quel modo per motivi che potete benissimo immaginare e allora si chiama no escape oddio non che no escape sia tanto meglio rispetto all'elimination chamber però la camera dell'eliminazione in germania diciamo che ha come posso dire ha dei toni abbastanza sinistri mettiamola così e quindi si è si è optato anche no way out veniva chiamato no escape se vi ricordate ai tempi ai tempi in cui il pay-per-view si chiamava così per l'Italia aspettiamo notizie per quanto riguarda i contratti i contratti televisivi abbiamo sentito qualcosa in realtà però non entriamo non diamo indizi di nessun tipo non diamo indizi di nessun tipo diciamo che se la cosa che ho sentito personalmente in settimana è vera è comunque come posso dire diciamo che comunque è una cosa che può soddisfare la gente però mi fermo qua sostanzialmente è interessante è interessante esatto sotto molti punti di vista quindi quindi aspettiamo ovviamente per avere per avere notizie e anche perché ovviamente la cosa che mi han detto potrebbe anche essere vera naturalmente cioè comunque una voce che ho sentito fino a questo momento siamo a livello a livello di voce speriamo di avere notizie al più presto in un senso o nell'altro naturalmente cioè o per sapere che se se la WB rimarrà nel nostro paese o se non rimarrà nel nostro paese in che morte dovremo morire esattamente in che modo che è detto in questi giorni è meravigliosa esattamente esattamente tornando a Smackdown cosa abbiamo da dire ancora su su Smackdown abbiamo avuto il Symphony of Distraction match perché ci mancava ci mancava un match in questo tipo vai che cazzo servono questi gimmick match così non lo so e non voglio sapere non lo so e non voglio sapere francamente io ormai li salto a prescindere no anche perché poi Nakamura si è anche fatto male poverino in questo match perché sostanzialmente la mossa finale era una powerslam di Braun Strowman dal tavolo di commento su un pianoforte che era piazzato lì a Broadway perché gli strumenti musicali erano legali in questo in questo match e sostanzialmente Nakamura ha battuto la testa sul pianoforte e si è aperto un pochettino l'hanno chiuso con dei punti tanto abbiamo scoperto dove era Nakamura settimana scorsa in realtà dove era grazie non lo sapevo era la celebrazione del ritiro di Taggartori ah ok era in Giappone quindi eh sì era in Giappone l'ho capito più che altro per tutte le foto che sono uscite con lui Taggartori poi c'erano lui Shibata Tanashi insieme sì 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 era evidentemente da quelle parti sì esatto il peggiore dei casi era evidentemente da quelle parti continuano questa rivalità strana tra Daniel Bryan e Yves Slater che non ho idea di cosa no in realtà secondo me Porter a un match con Gulak che non mi dispiace affatto sinceramente sì ma è completamente a cazzo cioè nessuna speranza non credo che Gulak abbia alcuna speranza di battere Daniel Bryan no più che altro mi pare abbastanza anche perché Bryan sarà nella cembre quindi non credo che mi pare abbastanza evidente una cosa comunque sì non sanno che fare con Bryan in questo momento in questo momento sì aspettando quanto secondo me è un'idea su cosa fare con Bryan non è un'idea non è un'idea ed è ed è irlandese però per arrivare lì bisogna occupare sostanzialmente le settimane con questa e vince ancora in 18 secondi l'irlandese tu dici no non credo penso che vincerà comunque Sheamus però sì potrebbe anche vincere il primo match della fight effettivamente hai capito per chi sono i glitch tra l'altro parlando di no ho visto le cose ho notato una lettera sì una lettera una busta da lettere ho notato sì e poi ho notato un'altra roba veloce ma non mi ricordo cos'è il cerchio il cerchio azzurro tipo Iron Man sì sai chi è? no ah lì ah lì ce l'ha sulla sulla cosa la mail la mail ma la lettera che vuol dire? perché lo chiamavano the messenger of light quindi ah è un po' letterale come cosa è un po' goffa se vogliamo però secondo me è per quello cioè diciamo che presuppone un ritorno di Ali ti immagini se Ali è quello che batterà Wyatt perché appunto lui è il messaggero della luce Wyatt Wyatt è l'oscurità cose di così e sei lui veramente il primo a batterlo primo Sargold pensandoci però vabbè esatto tu sai chi è che aveva fatto questo tu sai che aveva parlato di Ali come il messaggero della luce sfruttare questa cosa della luce Rouge mi sembra già Luca Rouge no anche B anche B in uno dei no ma ci sta se ci pensi in uno dei loro deliri però avevano buccato contro Balordeno se ci pensi ci sta effettivamente lo diamo ancora una volta anche se sono concorrenze ormai ricordiamo sempre a gomiti alti alle 2 di oggi ma non è necessario passare dalla concorrenza potete andare direttamente su Spreaker o su Stitcher su Stitcher esatto su Stitcher a gomiti alti direttamente lo trovate quando esce ogni lunedì credo ogni lunedì a le due e mezza solo che a questo giro non so di cosa parlano ok benissimo vabbè lo scopriremo domani vabbè Daniel Bryan contro il Fusano tra l'altro ha controllato il match è durato anche pochissimo tra l'altro però ha controllato il match finché non ha sbagliato cioè non ha disubbidito il piano il piano diciamo di Gulak e l'ha pagata perché poi Bryan ha cominciato a main arlo e poi lo ha finito praticamente e non c'è altro credo da dire stavo pensando ma stavo pensando no vabbè c'era il povero Otis nel backstage che con tag aveva detto non è neanche in grado di uscire dall'albergo e poi dopo invece era uscito ed era lì a orgliare mentre Ziegler offriva un passaggio a Mandy per andare praticamente in albergo a far cosa a far cosa lo scopriremo sai cosa è la cosa più bella? sai cosa è la cosa più bella? vai su Twitter e cerca Naya Jax perché Naya Jax? perché ha tweetato a proposito di questo match questa cosa Naya Jax vado a cercarlo vado a cercarlo è bellissimo quello che hai scritto vado a cercarlo aspetta un secondo aspetta che vediamo vediamo un secondo quando questo? è l'altro ieri 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 in realtà perché dopo dopo lo show era aspetta eccola qui aspetta che te lo vado a prendere allora ragazza sto per sto per chiedere di farmi tornare solo per romperti il culo per aver spezzato il cuore a Otis e la cosa include Ziegler dice anche è bellissimo è un tweet meraviglioso sì così a caso mi ha fatto ridere tantissimo va bene parliamo di Super Showdown allora poi andiamo a parlare di di Wednesday Night War di tutto quello che di tutto quello che presuppone l'evento abbiamo annunciati sette match mi sembra fammi vedere un secondo sette ricordiamo che ricordiamo è il numero massimo di ogni cosa sette quindi va benissimo tra l'altro lo commenteremo non so da che ora penso dalle sei in poi insieme a Max sì ho visto che non aveva ancora messo gli mando un messaggio perché glielo chiede subito dovrebbe sì penso che la faccia però penso anch'io anche perché è talmente comodo come orario esatto esattamente nei live stream a ieri non l'avevamo messo magari oggi la oggi la no non c'è ancora effettivamente il live stream in programma di scrivo un messaggio però vabbè penso che lo faccio ovviamente adesso gli ho scritto Super Showdown lo facciamo giovedì sì così facciamo promozioni io non so tra l'altro se cioè non so se ci sarà per tutto per più o meno perché non sappiamo neanche se si gioca Inter Ludo Gore a oggi quindi e se si gioca dove quindi non so onestamente se saremo in onda per commentare la partita poi vediamo guarda che lì 3-2-0 quindi dovrebbe essere comodamente passata quindi potremmo anche saltare però vediamo vediamo ovviamente che succede il piano è a commentare Inter Ludo Gore giovedì sera di Europa League quindi al massimo io faccio la prima parte e poi mi stacco verso le 8 e mezza vado voi lo puoi fare la partita comunque noi cioè la live reaction di Max giovedì comunque Mattia dovrebbe farla tutta con altre persone e poi venerdì pomeriggio registriamo un video per i Patreon dove commentiamo commentiamo un po' come il numero 0 del diro che abbiamo fatto la volta la volta scorsa è un po' come quello che cioè quello post take over pot ne ero da solo però però questa volta dovremmo essere in due lo registriamo venerdì vi invitiamo tra l'altro a unirvi al nostro pot al nostro pot venerdì 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 mercoledì o giovedì probabilmente lo registriamo lo registriamo oggi per chi ci sta ascoltando di domedì lo registriamo questa sera e ha trovato trovato anche la sigla per il podcast perché ho cercato una musica un pochettino un pochettino old school un pochettino tipo Chardest tipo Chardest negli anni 20 anni 30 una cosa simile quantomeno come clima però comunque la sentirete poi domani e registriamo questo podcast e poi mercoledì e giovedì lo doneremo a tutti i nostri patron a livello da 6 dollari tanto ringraziamo che siete 34 adesso 44 non so neanche dirvi se abbonarvi ancora al patron per un semplice motivo perché praticamente se vi abbonate adesso pagate adesso la quota piena poi la ripagate il primo marzo quindi non so neanche dirvi piuttosto veramente aspettate il primo tanto comunque il primo è cos'è domenica quindi da domenica o da lunedì prossimo potete rischi e non pagate due volte e poi comunque avete accesso ai contenuti esclusivi del nostro patron no veramente vi ringraziamo comunque tutti quei c'è gente anche che si è abbonata dopo il 20 per esempio che è una cosa che personalmente mi commuove francamente vi ringraziamo tra l'altro per il successo del patron che comunque sta andando molto 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 bene vi ringraziamo non ce l'aspettavamo no esatto io mi aspettavo che andasse bene non a questo livello francamente tu eri molto più pessimista però invece siamo stati entrambi praticamente smentiti fortunatamente va benissimo ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e quelli che parteciperanno un giorno se ne avranno voglia esatto esattamente vi ricordiamo tra l'altro che il back in the day il back in the day solo per voi compreremo il libro di Kane e ricordiamo che il back in the day non sarà disponibile da nessuna parte francamente sarà solo ed esclusivamente per i membri del patron livello 6 dollari ok intanto mi sta rispondendo Max ok benissimo appena mi risponde mi dice buono a sapersi buono a sapersi allora parliamo di Super Showdown allora Seth Rollins e Murphy contro gli Street Profits non penso a cambio di titolo a meno che non vogliano fare Street Profits che vincono e poi dargli un po' esatto che potrebbe essere l'unica spiegazione per il cambio di titolo però non me lo terrei per questo pay per view francamente più che altro sai cosa io penso che potrebbero fare il cambio di titolo nell'altro match tag team quindi già già con Mizza Morrison più che altro sì perché sennò come vai avanti li hanno battuti tieni conto che c'è un altro pay per view c'è ancora Elimination Chamber prima di Rest Elmania quindi volendo possono anche farlo lì il cambio di titolo sia in quel caso che in quello dopo quindi vediamo vediamo come vediamo come si prosegue tanto un modo è vero che non ci sono i rematch i rematch obbligatori non obbligatori scusate i rematch garantiti però diciamo però diciamo che comunque un modo per fare un rematch comunque alla fine si trova mi dice Max che conferma alle 18 perfetto molto bene buono oggi programma le dirette molto bene quindi giovedì alle 18 canale di Max risorse al 92 c'è la live reaction di Super Showdown farà lui la live reaction noi ci uniamo perché comunque è giusto che vadete così peraltro facciamo anche promozione al fatto che sta facendo i video anche lui per gli abbonati tra l'altro dei suoi canali i suoi costano meno però parla solo di Roy e di SmackDown noi parliamo anche di altre cose oltre Roy e SmackDown no scherzi a parte ovviamente costa cos'è 1,99 credo che costi l'abbonamento al canale di Max non lo so perché non avendo l'abbonamento i video esclusivi sono commenti post Roy e SmackDown sostanzialmente non credo che faccia i next team credo che faccia solo Roy e SmackDown comunque per il momento li trovate li trovate lì se avete soldi da buttare via oltre a quelli del Patreon naturalmente perché comunque dobbiamo sempre pensare anche ai nostri interessi c'è anche il canale di Max di Max se non gli facciamo un po' di promozione allora vabbè titoli tag vediamo cosa cambia secondo me non cambia nessuno dei due però vediamo perché c'è un altro pay per view quindi volendo si può cambiare tranquillamente a Elimination Champions se fosse necessario fare un cambio di titolo di questo tipo Bayley contro Naomi qui il titolo non cambia il titolo secondo me non cambia di mano Bayley conserva il titolo sì anche secondo me più che altro mi ha stupito perché io pensavo che sarebbe stata Naomi a vincere il titolo da Bayley a battere Bayley a WrestleMania e invece pare che abbiano cambiato i piani che non sarà quello il match di WrestleMania vediamo chi sarà a sto punto l'avversario di Bayley a me viene in mente un nome però bisogna vedere come ci si arriva quel match io continuo sempre a dire Sasha Benzo però bisogna vedere come ci si arriva anche a quel tipo di match naturalmente io sono sempre scettico su Sasha ma perché te l'ho detto purtroppo entrambi hanno la gimmick della stronza in questo momento sono abbastanza intifabili entrambe anche se me la giri lo so però Bayley comunque è anche vero che se tu metti di fronte una delle due Bayley e la heel Bayley si fa odiare meglio rispetto a Sasha Banks nel senso se una è face e l'altra heel intendo io ti ricordo fai veramente la storyline che ti dicevo l'altra volta per ridere che praticamente la cosa parte che le ha rubate i master le cancella i master del CD perché lei fa il CD rap e io no esatto ti immagini che già fa ridere la premessa ti immagini Bayley che fa un album rap poi magari è brava però di base non mi dà l'idea di essere particolarmente dotata da quel punto di vista poi il Tuvike Trophy che non vuol dire Tuvike al contrario cioè questo Gaunted Match per questo trofeo ci pensavo ieri il Tuvike è una catena montuosa sai cos'è di fatto questo? è il gran premio della montagna della WWE infatti io ve lo dico già io commenterò il match se sarò in onda durante il match io commenterò il match con la voce di Adriano Dezan per tutto quindi lo commenti in questa maniera con questo tipo con questa intonazione no 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 tu non sai com'è Dezan era attenzione Abdu Giapparo prova a scattare sul Pordois io lo commentavo come il commentatore della della Stralugano di no quello Stralugano che cazzo c'è era micro ciclismo era atletica quella quella era Giacomo Crosa comunque no Dezan era Dezan era quello però c'era manca Santini manca Santini durante il collegamento però nella Stralugano però se ti ricordi c'era a un certo punto il Gampio della Montagna tant'è che in rettonico sì sì esatto con il mio boot sì ma in Gampio della Montagna nelle gare di atletica non ci sono sono intentato per quella cosa comunque la Stralugano non molto ridere chi vince questo match chi se ne frega mi viene anche da dire perché sono AJ Styles Andrade Bobby Lashley Eric Rowan Arthur Ferose secondo me lo vince AJ sto match lo vince AJ più che altro perché è l'unico dei sei che ha un match importante in arrivo a Restalmania quindi penso che vogliono tenerlo un pochettino secondo me Ruro elimina Lashley sì potrebbe potrebbe andare sì effettivamente vado con Ruro che la finale la finale potrebbe essere AJ Styles contro Rusev Arthruv viene eliminato con Lashley con Lashley che fa perdere Rusev anche sì anche puoi anche fare se proprio dobbiamo continuare sta faida andiamo avanti con Lashley e Rusev poi in uno dei match più attesi dell'intera card Roman Reigns contro King Corbin in uno Steel Cage match attesissimo non ne abbiamo non ne abbiamo abbastanza di questa di questa faida vai volevo volevo parlare di questa faida citando una canzone di Masini quale? puoi immaginare qual è ok benissimo andiamo avanti inizia per V perché ce ne sono due cioè quella e la cover di la cover di Nuffin and Smetters no 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 in quel caso la cover di Nuffin and Smetters me la utilizzerei per il contest match che secondo me è più adatta allo score la canzone di Masini adatta in questo momento è assolutamente abbiamo capito perfetto l'altra esatto esatto Roman Reigns secondo me vince Reigns però vediamo vabbè ma deve vincere Roman ma stiamo scherzando il deve allora il deve e il vincerà sono due cose diverse come spesso questa compagnia ci insegna sono due cose completamente diverse perché ma stiamo scherzando dai su non lo so ti ricordo che c'è anche la chamber ci sarà anche ci sarà anche lì sicuramente questa cosa quindi potrebbe anche vincere tanto stavo le hai viste le immagini di Tyson Fury al match ieri che è entrato con il entrato con il trono tipo no Fury contro Corby no adesso è libero si è anche fatto poco male effettivamente durante quel match perché il match è stato praticamente senza storia non mi stupirebbe il Gypsy King contro King Corby nel Wrestlemania con Corby che prende una fracca di mazzate dall'inizio alla fine Eric si se lo fanno io vado via se lo fanno io mi alzo dalla mia postazione vado in bagno vado a fare altro mi auto esilio dalla diretta e torno quando è finito è un'ottima domanda è un'ottima scusami è un'ottima affermazione però no in realtà scusate stavo mangiando un boccone dicevo in realtà ti bloccherò ti bloccherò diciamo tipo trattamento ludovico alla poltrona e dovrai vedere questo questo match adesso ti passo ti passo le immagini diciamo di Fury che entra che entra diciamo con che entra in quel modo praticamente ecco qui eccolo qua stavo cercando di ho trovato subito il video subito subito il video praticamente perché proprio è è molto 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 simile è molto molto simile questa 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 se ti guardi anche le immagini è assolutamente simile sì sì no l'ho vista l'ho vista l'ho vista l'entrata di Tyson Fury è chiaro che andranno cioè lo ha anche premettendo che comunque lo ha anche citato la WWE quindi nel suo sito ha messo messo l'articolo quindi ripeto non sarei non sarei non sarei non sarei minimamente stupito francamente di vedere un match di questo tipo questa sera cioè non stasera scusami Arresta il Mania King Corp incontro King Fury poi c'era tipo Tripoli c'era un sacco di gente lì in realtà perché c'era anche tipo Triple H lì allo stadio c'era c'era John Moxley anche c'era John Moxley c'era John Moxley con la benda continua a vendere questo infortunio ovunque vada che fa molto ridere come cosa perché quanto è passato ormai diciamo dall'angolo un mesetto buono e lui continua continua in giro quando ti cavano l'occhio ho letto una spiegazione scientifica cioè allora la benda serve non so se sia vera sta cosa a impedire praticamente cioè a far riposare l'occhio anche quando sei quando sei in giro perché abituando praticamente l'occhio danneggiato al buio non si apre e si chiude di continuo la pupilla praticamente non si espande e non si chiude e quindi può guarire più velocemente sì ok diciamo mi fa ridere l'attaccamento diciamo alla Kayfabe nel 2020 cioè l'apprezzo intendiamoci l'apprezzo molto però mi fa mi fa anche ridere molto questa cosa quando la Kayfabe perché pare che la indossi esce di casa e c'è sta benda cioè mi fa molto ridere nel 2020 una cosa va a portare blu a fare a fare i bisognini e c'ha la benda esatto va a portare l'altro sgorbio che hanno è un grande attaccamento alla Kayfabe mi piace moltissimo come cosa dall'altro mi fa sorridere perché è chiaro che non c'ha un cazzo quindi mi fa molto sorridere questa cosa non ricordo come si chiama l'altro sgorbio che hanno lui e René però è tipo un Chihuahua e quei cani mi stanno sulle balle però quando va a portare in giro blu e l'altro sgorbio ovviamente c'ha la benda a questo punto allora 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 poi vabbè Roman Reiskin-Corbin se ti vuole vince Reigns però sai che comunque diciamo il cetriolo è sempre in agguato diciamo che Reigns non ha avuto molta fortuna l'ultimo cage match in Arabia no vero vero anche questo era lui era lui nel cage match c'era anche con Lesnar ah si è vero hai ragione era lui Strowman non era un cage match giusto erano lui e Lesnar hai ragione hai ragione Lesnar contro Ricochet qui nessun dubbio su un cambio di titolo cioè vince Lesnar chiaramente farà polpettine di Ricochet se Dio vuole sarà un bel match però secondo me sarà un bel match secondo me non arriva dieci minuti sto match vediamo io spero sia un match almeno leggermente competitivo si avrà la sua offensiva Ricochet ma secondo me Lesnar vince abbastanza lentamente mi spiace ma il ruolo di Ricochet è quello secondo me in quel match non credo che Ricochet uscirà più over da questo match non sarei minimamente stupido ma io lo spero in realtà ci spero ma non ci credo secondo me Ricochet viene asfaltato in questo match perché comunque non è diciamo è vero che Heyman ci punta però non ci c'è sarei molto stupito se questo fosse un match fosse un match lungo e Ricochet fosse un passo da vincere di Toto capisci? vi piacerebbe intendiamoci non ci credo neanche se lo vedo vediamo vediamo più che altro no ma più che altro perché comunque con tutti quelli piccoli come Ricochet ha sempre fatto dei match comunque sempre competitivi no quello è vero poi l'altro diciamo l'altro l'altro dubbio il discorso è che comunque sai anche già il match di Wrestlemania ma quello succede sempre però ti dico questo quale modo migliore per costruire una superstar una superstar fargli fare un match bello e competitivo con l'Esna sono d'accordissimo con te su quello la domanda no però la mia domanda è glielo faranno fare secondo me no allora bisogna capire una cosa secondo me e questo è fondamentale è quanto quanta influenza ha Heyman effettivamente sul booking finale di un pay per view ok capisci che intendo perché se se io sono il booker dello show se io sono il booker di Raw e ti dico senti Vince ok io voglio Ricochet contro Lesnar ma io voglio che Ricochet ne esca come una superstar non lo voglio distruggere cioè almeno dammi 10 minuti lì più che esatto lì più che a Vince bisognerà anche poi chiedere a Iron Agent comunque c'è il contente di pay per view perché comunque ovviamente però nel senso comunque quando butti nel briefing ho capito però nella riunione di booking team quando butti il pay per view sono d'accordo però ti dimentica anche una cosa importante in questo caso è giustissimo il ragionamento che fai per qualunque altro match qui c'è Brock Lesnar se Brock Lesnar se Brock Lesnar non ha voglia di fare una cosa non la fa siamo d'accordo però e non sto dicendo che non abbia voglia però magari è in quelle giornate in cui dice no io questo qua non vendo e il match lo facciamo in 4 minuti così meno io prendo l'ero prendo l'ero però ti ricordo sempre una cosa tra l'altro sto match la pre per view perché così meno Lesnar può prendere partire tutti gli uomini tra virgolette di Heyman chiamiamoli così che lui ha proposto all'Eznar hanno sempre fatto Esnar ci ha sempre tirato fuori dei grandi match cioè nel senso tu vedi palesemente quando un avversario gliel'ha scelto Vince e quando un avversario gliel'ha scelto Heyman quello è vero il match cambia completamente quello è vero perché quando il match quando come match hai avuto AJ quando hai avuto Brian quando hai avuto Balor quando comunque hai avuto Rollins con questa gente Lesnar ha avuto voglia di lavorare quando hai avuto gli Strowman hai avuto i Kane hai avuto i Randy Orton Lesnar c'era voglia di fare un cazzo quindi dipende anche quanto Heyman ha voglia di vendergli la roba poi c'è anche un altro problema in questo caso cioè la collocazione temporale del pay per view questo è un pay per view che in America è a mezzogiorno di giovedì quindi un pay per view che già di base non vedrà molta gente starà poi a loro se effettivamente poi farà una grande prestazione Ricochet poi ricordarlo alla gente quantomeno da lunedì in avanti e c'è un problema in quel caso c'è la costruzione di Restalmania da fare quindi anche se facesse una grande prestazione poi non vedo purtroppo la WWE ricordare guardate che questo ha fatto un grandissimo match con con Brolycer e tenerlo su praticamente in queste settimane perché comunque finito questo match lui poi non ha piani per Restalmania a meno che non mi calavano per Royale vai c'è un piano che potresti avere però in realtà tu dici che lo potrebbero già fare per un altro match allora mi pare abbastanza evidente che con la sospensione di Andrade hanno abbastanza tirato con con Coso con Umberto Carrilio con Carrilio non ti dico che hanno tirato i remi in barca però comunque hanno però però non gli hanno tolto il titolo ad Andrade quindi appunto a sto punto ti dico cosa farei io adesso penso possono riprendere dovessi dire ti dico cosa farei io sì per fare i cosci contro Andrade anche anche però non l'hai già fatto il ricorcio contro Andrade però no 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 ricorcio Andrade non l'ha mai fatto sei sicuro perché secondo me si sono già affrontati no magari sbaglio no 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 ti confondi vado a vedere lui ha affrontato EJ sì ho capito ho capito però ricorcio Andrade secondo me qualche volta si sono affrontati magari sbaglio magari sbaglio io secondo me no magari sbaglio sto cercando sto cercando i match cercando i match con confronti tra questi due allora sì si sono affrontati si sono affrontati a Raw in una puntata l'undici cosa cazzo il 30 dicembre 30 dicembre Andrade no Andrade batte Ricochet in 11 minuti ed è un match senza senza titoli e in altre diciamo in altre occasioni si sono affrontati in il contest era a luglio il Ricochet Andrade Cesaro Remister e Semi Zane sì e uno contro uno non ho avuto solo quel confronto poi vabbè sono affrontati i no show però quelli non contano francamente poi vabbè c'è stato anche un altro contro di 16 dicembre e dei freeway però sì c'è un confronto diciamo c'è un confronto ce ne sono poi altri però a livello televisivo sì un match l'hanno fatto pensavo avessero fatto qualcosa di più a livello di fight però un match effettivamente un match solo diciamo va bene cioè comunque puoi benissimo ritornare su quello diciamo che l'unico problema è che Ricochet comunque campione degli Stati Uniti è già stato quindi cioè il vincere i titoli degli Stati Uniti quando? l'ha vinto i titoli degli Stati Uniti Ricochet sai che mi sembra di no ah sì l'ha vinto e l'ha perso subito contro i J sì esatto l'ha vinto con Joe l'ha vinto con Samoa Joe e poi l'ha perso l'ha perso subito contro i J esatto sì un mese dopo un mese e mezzo dopo non ricordo quindi alla fine dagli i titoli degli Stati Uniti ok diciamo che non gli non gli cambia molto secondo me dal punto come consacrazione mettiamola così a meno che alla cosa non coincida poi un buon booking del titolo degli Stati Uniti forse l'unica cosa che può tenerlo tra virgolette su mettiamola così senza farlo tornare nell'anonimato potrebbe essere capisci che intendo? sì sì capisco perfettamente adesso vediamo vediamo cosa cosa si inventano al limite secondo me possono farci qualcosa dopo Restelmania con Ricochet però non per il titolo per esempio perché dopo Restelmania secondo me per il titolo il titolo ce l'avrà McIntyre e dopo Restelmania c'andrà Rollins dove si ipotizzare diciamo il prossimo il prossimo dipende da cosa succederà in realtà sì dipende da cosa dipende da cosa hanno in mente per Restelmania esatto questo è poco ma sicuro tornando a tornando a Super Showdown ci rimane quello che sarà penso il main event ovvero Bray Wyatt contro Goldberg per il titolo universale qui vediamo vediamo cosa rimango dell'idea che vinca Wyatt però se hanno veramente cambiato i piani per Restelmania e non si fa più un race contro Wyatt a sto punto vale tutto però io ti faccio di nuovo la stessa domanda che magari sarebbe anche bello tra virgolette se magari riusciamo a farlo sulla nostra pagina di Facebook fare un fare sondagione sì possiamo farlo benissimo contro Reigns lo metto domani vai Wyatt contro Reigns o Reigns contro Goldberg quale è oggettivamente quale vi piace di più come match come idea solo di match la mettiamo domani domani ricordami io parlavo con un mio amico e gli ho detto ma se se io ti propongo Wyatt contro Rost Wyatt contro Roman Roman contro Goldberg tu cosa vuoi vedere la sua risposta è stata la mia stessa risposta cazzo io voglio la Spear contro la Spear cioè hai la praticamente hai la storyline già fatta hai la miglior Spear del business di sempre contro un altro che comunque la Spear la fa discretamente bene sì sì cioè si scrive da sola come storyline cioè lo fai lo bucchi come hai buccato Goldberg-Lesnar ovvero questi due che si fanno Spear ogni 30 secondi finché uno dei due non esplode e io esco da quel esco da quel match bimbo felice perché comunque è un big minima slap meat esattamente sì esattamente è un match comunque che lo vendi lo vendi solo esclusivamente con Spear contro Spear cioè e lo vendi perché lo vendi perché comunque per come hai buccato Goldberg adesso cioè avendo buccato bene Goldberg negli ultimi anni puoi benissimo fare un ragionamento del genere allora è programmato lo metto domani cioè per chi ci sta ascoltando alle 10 va su online il sondaggio e durerà una settimana eccolo qua cosa preferireste per Wrestlemania come match per il titolo universale Wilde contro Reigns o Goldberg contro Reigns e votate per votate per decidere giusto per secondo me stravince Goldberg contro Reigns però vediamo perché magari ci sono i due repuri che dicono no Goldberg è un ritirato voglio vedere ok giusta osservazione secondo me al massimo secondo me diciamo il come posso dire il il margin cioè il rapporto sarà 3 a 1 cioè 75-25 per Reigns contro Reigns contro Goldberg piuttosto che Wilde contro Goldberg questa è la mia impressione quantomeno non lo so vediamo vediamo cosa succede comunque no vedo Wilde contro Goldberg il mio pronostico è ancora con Wyatt però ripeto se effettivamente è vero che sono cambiati i nuovi piani per Wrestlemania a sto punto ripeto vale tutto a sto punto veramente ci si schiudono le porte per un potenziale Reigns contro Goldberg tutto qua assolutamente sì non ci rimane molto da dire per quanto riguarda la WWE a parte la Wednesday Night War allora apriamo anche il discorso AEW e direi di cominciare con la preview di AEW Revolution anche se tu non segui molto beh non udì anche la tua sulla faccenda naturalmente no beh qualcosa posso dire però io so io conosco l'AW per i tuoi per i report che mi fai te praticamente allora abbiamo 5 cioè abbiamo 4 match annunciati in realtà per quanto riguarda questo preview ma saranno 5 saranno veramente anche di più perché Darby Allen contro Sammy Guevara è praticamente già annunciato perché comunque l'hanno già costruendo da settimane l'hanno praticamente ufficializzato durante Dynamite penso ma non fanno come la TNA che non dicono mezzo a card lo diranno giovedì penso che almeno 2-3 match li annunceranno mercoledì fanno come la TNA che ti annunciava 4 match e poi te ne faceva i match a cazzo dopo no non credo non credo penso che 2-3 match saranno annunciati tranquillamente mercoledì durante Dynamite abbiamo come detto Darby Allen contro Sammy Guevara tenendo conto che comunque i match che hanno annunciato penso che saranno piuttosto lunghini quindi comunque già comunque buona parte della carta sarò occupata da questi match Darby Allen contro Sammy Guevara penso vinca Darby Allen perché mi sembra particolarmente over e mi sembra abbastanza in rampa di lancio cioè non per vincere il titolo ovviamente però mercoledì è tornato Dynamite dopo diverse settimane di assenza pubblico è abbastanza impazzito per lui quindi ha avuto un bel pop quando è entrato Darby Allen quindi è andato over è andato over col pubblico e mi anche se Mi Guevara è over non sto dicendo questo sono entrambi molto molto over nei ruoli che hanno tra i due mi sembra che contando che comunque a meno che non vogliono far vincere tutto l'inner circle in questo in questo pay per view però i proud and powerful non hanno un match in questo in questo momento quindi non so se vorranno fare una cosa di questo tipo magari vorranno fare questo tipo di ragionamento visto che Jericho penso conservi il titolo e Eger batterà Dustin Ross perché comunque è giusto che lo batta beh Guevara può anche perdere eventualmente in questo match vince Darby Allen che comunque nell'immediato secondo me essendoci anche campione Hill potrebbe anche essere utilizzato per le zone medio alte della card questa almeno è la mia opinione Jake Eger contro Dustin Ross sarà secondo me uno showcase di Eger sarà uno showcase di Eger e Eger vincerà il match avrà credo è tratto il primo match di Eger da quando è debuttato in EIW primo match in cinque mesi perché lui è arrivato il primo di ottobre è arrivato subito subito avrà puntato di Dynamite e non ha ancora fatto un match fino a questo momento quindi sarà sarà il suo debutto in EIW penso che vincerà perché comunque però comunque anche Eger è andato over nel ruolo che ha che è quello di diciamo di montagna di bodyguard silente effettivamente di Chris Jericho bodyguard silente che non muove gli occhi ricordiamo c'è quel video in cui per un minuto e quindici non sbatte le palpebre che è inquietante ma che fa anche molto ridere diciamo che se avesse contro gli angeli di Dottor U sopravviverebbe non guardo Dottor U quindi non colgo purtroppo chi guarda Dottor U chi coglie Dottor U l'ha capito esatto Kenny Omega Hangman Page contro gli Unbox per i titoli di coppia dell'AW questo dovrebbe essere molto bello come match e abbiamo visto già abbiamo visto ottimi match di coppia nelle ultime settimane a Dynamite questo non dovrebbe fare eccezione potremmo essere giunti al momento dello split tra Omega e Page per poi cominciare a costruire il match tra i due che penso sarà Double or Nothing a questo punto cioè a fine maggio il light motive l'abbiamo detto in queste settimane il light motive dei match praticamente di Omega e Page è che Page continua comunque ad avere problemi di comunicazione sostanzialmente con Omega cioè c'è sempre il momento in cui sostanzialmente Page fa il backshot la rete e becca Omega credo che questa volta sarà il contrario cioè Omega sbaglierà qualcosa Page verrà colpito loro perderanno il match alla fine non è detto che sia per quello però penso che alla fine loro perderanno il match con i Bucks e alla fine poi Page attaccherà Omega e venerà sia lui magari anche i Bucks dopo che sono andati via perché magari si stringeranno la mano e poi Omega Page gli si rivolterà conto praticamente per poi costruire il discorso l'abbiamo già detto anche questo è strano che vogliono girare il Page però penso che possa essere con la direzione perché comunque lui sta andando molto over con la ghimmi dell'ubriacone sostanzialmente perché quello è alla fine vediamo perché poter cioè non penso che vogliono girare il Elite cioè Omega e magari anche i Bucks o Omega che gira puoi fare anche Omega che gira il su Page volendo però per come l'han costruita mi sa che è più Page a girare a girare il suo Omega però vediamo puoi fare entrambe le cose io rimango scettico sul fatto di girare Omega più che altro perché è comunque uno degli uomini della punta della tua compagnia c'è costruito tutto intorno fagli fare prima una randa heal che buttarlo subito heal fagli fare una randa da babyface e poi buttalo heal vero secondo me girare Omega in questo momento è stupido no stupido magari no perché dipende cosa hai in mente il discorso di Omega è capire anche lì il discorso sul lungo termine cioè Omega secondo me è quello che toglierà il titolo agerico e farlo da farglielo fare da heal cioè non ha senso secondo me se proprio questo di questi dovesse essere i piani dall'altro hai comunque Page che è molto over con questa storia del fatto che lui beve che è parolustale ci pensiamo però non lo so la sensazione è che vogliono girare il Page poi vediamo cosa vediamo cosa si inventano Sabato e Revolution ma magari anche dopo perché comunque possono anche eventualmente fare il turno mercoledì però la sensazione è che comunque qualcosa qualcosa stia per accadere tra questi due dopo comunque mesi che l'hai costruito giustamente questa cosa la cosa positiva dell'AW secondo me è che dalla prima puntata di gennaio che è stata la prima puntata dopo la sosta praticamente dopo la sosta natalizia lo show ha svoltato lo show ha veramente svoltato dal punto di vista qualitativo cioè non hanno sbagliato praticamente niente in quelle in queste sette otto settimane di show che hanno fatto su su TNT non so se sia come si dice perché sostanzialmente Tony Khan ha preso più il controllo del booking cosa che magari prima non aveva però è un dato di fatto che comunque da gennaio da quando veramente si è iniziato a costruire Revolution lo show abbia veramente svoltato dal punto di vista qualitativo non sta sfortunatamente pagando negli ascolti per un motivo o per l'altro che comunque è anche un altro periodo però se continuano su questa strada poi alla fine il raccolto arriverà secondo me per quanto riguarda l'IDAW vero che stanno battendo costantemente NXT NXT non riesce in nessun modo a prendere controllo praticamente del mercoledì sera è anche vero che però questo milione non si passa non si passa live quantomeno si passa poi dopo due giorni con quelli che lo guardano in registrata lì purtroppo è inevitabile sfortunatamente lì difficilmente credo che questa gente verrà convinta a vedere i W Dynamite Live se si sono abituati a vedersi a vedersi programmi on demand detto proprio papale papale però dal punto di vista qualitativo ripeto che hanno fatto secondo me un grandissimo lavoro le storylines sono arrivate al picco adesso in vista di in vista di revolution il picco sarà la revolution proprio la gestione che è stata che è stata lenta anche se vogliamo delle storylines secondo me sta arrivando sta arrivando a un ottimo livello per quanto riguarda il pay per view e il pay per view per Mocumide il che non vuol dire che il pay per view faccio un esempio per fare un paragone non credo che questo pay per view sarà migliore di take over Portland dal punto di vista del puro e semplice lottato perché non non credo che agli uomini per fare un discorso di questo tipo Omega e Page contro i Bars secondo me ha un grande potenziale di essere a quel livello quantomeno il resto probabilmente no però hai le storie diciamo che hai comunque le storie faccio un esempio MJF Cody secondo me sarà un match drammatico sostanzialmente a livello di a livello di storia perché comunque è il culmine di cos'è un anno di storyline alla fin fine perché da quante che vanno avanti MJF Cody contando contando Bindi Elite contando parecchio è parecchio che vanno avanti quindi comunque è il culmine di una storyline lunghissima sostanzialmente per quanto riguarda loro due quindi quello sarà un match drammatico sostanzialmente sarà un match molto molto pesante a livello di storia dal punto di vista lottato vediamo come può essere la domanda è chi fai vincere secondo me vince MJF questo match ovviamente sporco non penso che vinca che vinca minimamente pulito il match con con Cody però penso che questo match qua lo vinca MJF non so tu cosa cosa ne pensi sì penso anche io che vinca MJF anche perché sarebbe parecchio stupido cioè e un errore del genere l'hai già fatto sì perché comunque hanno fatto un errore del genere anche con lì Sean Spears sì vero perché con Sean Spears io continuo a dirlo loro hanno fatto una cagata enorme a farlo perdere sono d'accordo tant'è che lui di fatto è praticamente sparito lui gli hai ucciso completamente il momentum sì sì ma questo è comunque un'altra un'altra cosa un'altra cosa che fa riflettere e ragionare sulla situazione non per forza se tu vai via dalla WWE sbattendo la porta e vai da un'altra parte automaticamente diventi una persona di punta su cui la gente su cui le compagnie possono costruirci su il mondo e intendiamoci e Sean Spears l'ha dimostrato l'ha dimostrato diciamo non per colpe sue anche tra l'altro in questo caso purtroppo ci vanno anche le circostanze sostanzialmente però comunque il fatto è che comunque Spears alla fine dove è andato cosa ha fatto dopo che dopo che sei andato dalla WWE dopo che in molti ne parlavano come uno sottovalutato che meritava di più da quella compagnia di brutti e cattivi che non l'hanno mai valorizzato io al massimo lo vedevo come un tipo campione stati uniti campione intercontinentale al massimo non sicuramente un main eventer esatto non di più non di più effettivamente è quello che uno commissora e attenzione non c'è niente di male non c'è assolutamente nulla di male tutti non possono essere main eventer in una compagnia ci vanno ci vanno anche ci vanno anche i jobber in una compagnia ci vanno i jobber ci vanno i midcard ci vanno ci vanno i main eventer comunque però non possono essere cioè la WWE in questo momento quanti dotatori ha stato contato? 400 contando ecco non è che hai 400 main eventer è impossibile ma non puoi non puoi non è possibile che tutti possano essere main eventer non ha neanche senso dal punto di vista dal punto di vista del diciamo della logica un ragionamento di questo tipo tutto qui no ripeto penso vinca MJF questo match poi penso che il discorso è questo puoi anche far vincere Cody no? perché comunque Cody in questo momento è il miglior babyface che hanno secondo me nell'intera nell'intera compagnia il discorso però è un altro cioè ok fai vincere Cody e poi esatto il discorso è perché loro fortunatamente o sfortunatamente si sono tra virgolette legati nel senso Cody può anche avere delle vittorie importanti ma per il titolo mondiale per stipulazione lui non può andare e loro questa stipulazione almeno per il momento vogliono comunque vogliono comunque aderire a questa a questa stipulazione vogliono comunque farlo osservare questa questa stipulazione del fatto che lui non può non possa andare per il titolo mondiale quindi anche dovesse vincere comunque poi lui è comunque bloccato cioè lui non può avere tre tossotti in questo momento in questa compagnia non c'è un titolo secondario può andare per il titolo di coppia volendo ma non ha un texting partner a parte il fratello beh no ce l'ha al suo fratello al fratello ok al fratello però però a parte quello lui è bloccato cioè in questa in questa sessione prima o poi questa stipulazione penso che verrà rescissa prima o poi in un modo o l'altro cioè troveranno poi il modo in storyline di di rescinderla però per il momento aggiungo che è anche giusto che sia così perché comunque è inutile che che metti delle stipulazioni se poi non le fai rispettare se metti una stipulazione poi la rompi un mese dopo non ha neanche senso e è giusto che comunque questa stipulazione rimanga per parecchio prima di venire eventualmente eventualmente rotta e interrotta quindi comunque la puoi interrompere solo se fai girare il Cody ecco esatto potrebbe essere un ottimo un ottimo modo per diciamo per interrompere questa questa stipulazione e in questo momento non mi sembra che sia nei piani poi sarebbe aggiungo sarebbe anche un errore sarebbe anche assolutamente un errore girare Cody in questo momento in questo momento comunque lui in questo momento è il miglior face della compagnia proprio a mani bassissime mani molto molto basse hanno fatto hanno fatto un buon lavoro con lui ah ma ha fatto un grandissimo lavoro hanno sfruttato i suoi punti di forza e hanno evitato di hanno sfruttato i suoi punti di forza assolutamente che è quelli di fargli fare wrestling entertainment wrestling e non e non e non fargli fare quello che cercava di fare nelle in ringo ronoro e così via assolutamente assolutamente che poi attenzione non è che stiamo avendo brutti match anzi anche il cage match di mercoledì che è un match molto semplice a livello di a livello di svolgimento è un bel match poi tra l'altro aggiungo che hanno anche fatto un ottimo lavoro con la gara tra l'altro si è anche fatto male tra l'altro nel cage match ha tipo una ha tipo l'alluce lussato qualcosa qualcosa di simile si l'ho letto però vabbè gli è andato può lottare ok si mercoledì penso che non lotti mercoledì penso che non lotti e lo tengono a riposo in vista di in vista di revolution però ripeto anche sulla gabbia hanno fatto un bel lavoro perché la gabbia è molto bella a livello estetico aggiungo è anche molto alta tra l'altro che cosa che rende tutto abbastanza ancora più pericoloso se vogliamo credo non vorrei dire ma credo che sia alta come l'Elin Assel nuovo della WWE è la madonna è guarda che è alta hanno detto che è 20 piedi la gabbia dell'AW premettendo che ovviamente nel mondo del wrestling l'esagerazione a livelli topici però se la guardi è veramente alta come gabbia è un po' come l'Elin Assel però senza il tetto cioè non come l'Elin Assel corrego perché comunque non c'è no ma l'ho vista non c'è lo spazio se la guardi però è altina come gabbia effettivamente quindi hanno fatto hanno fatto un buon lavoro da quel punto di vista tornando a noi parlando di non di gabbie però parlando del main event di Revolution Gerico contro Moxley allora io ho detto che vince Gerico però 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 diciamo che puoi avere un caso per una vittoria di tutti e due nel senso che puoi far vincere entrambi poi Gerico ha senso magari sul lungo termine sul lungo termine se vuoi diciamo far far perdere il titolo a Gerico contro Omega magari ha senso che lui vinca con Moxley in questo momento però chi gli manderesti contro anche se vogliamo puoi anche farlo vincere perché comunque è over e comunque è la prima title shot quindi ha anche senso che eventualmente lui vinca però è anche vero che poi se vince Moxley con chi lo mandi nuovo con Gerico ovviamente ovviamente sì però altri heal in questo momento a meno che non fai Moxley contro un JF in questo momento non ne vedo di heal pronti quantomeno per essere spediti in zona main event per il mondo di W tutto qui a meno che non lanci già Page però Page andrà contro Omega prima quindi boh non lo so poi hanno anche il fatto è che comunque hanno anche da cioè comunque Gerico gli sta gli sta dando una grossa mano con gli ascolti perché comunque anche Gerico aiuta tantissimo a boia in questo momento è hot come personaggio eviterei di togliere il titolo in questo momento piuttosto glielo togli piuttosto devi cioè diciamo che non so quanto ok non sai quanto mox che catalizza gli ascolti anche perché si mox sei sparito per un attimo ripeti quello che hai detto grazie no dicevo non so quanto mox possa essere quello che ti alza ancora di più ti tiene gli ascolti alti cioè quanta gente comunque se c'è mox campione ti gira il canale ok può essere può essere un'obiezione corretta diciamo che oggettivamente poi è una domanda che ti dovresti fare con tutto il roster dell'AW però prima o poi devi cambiarlo questo titolo no sicuramente ma infatti lo ho detto sarà Ken Omega secondo me a vincere il titolo da mox è anche vera è anche vera una cosa relativamente all'AW stanno facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda il resto cioè il famoso discorso che noi facevamo all'inizio cioè il fatto che ok Omega perde troppo i Bucks perdono troppo che poi non era vero andiamo a vedere le statistiche però a livello concettuale match importanti li perdevano effettivamente quelli che contavano Bucks e il resto dell'Elite a parte Cody i match importanti li perdevano perché? perché comunque c'era bisogno di rendere di prendere un roster praticamente che comunque erano quasi tutti sconosciuti lo stesso Sammy Guevara era praticamente uno sconosciuto andiamo a vedere l'abbiamo visto in luce underground per carità però a livello di grande pubblico lui Darby Allen tanta gente che comunque era abbastanza sconosciuta sei mesi dopo abbiamo avuto la dimostrazione comunque da parte dell'AW con il booking che loro hanno fatto che comunque questa gente sta andando over pian pianino sta andando anche anzi molto over aggiungo aggiungo anche adesso mercoledì hai anche Pack che farà l'Iron Man Match contro Omega penso lo perderà però è il discorso c'è comunque hai tutta gente che con il con il passare del tempo a forza di comunque anche i private party per esempio i private party comunque hanno comunque il loro ruolo all'interno della compagnia hai tutta gente che comunque effettivamente a forza comunque di fargli battere subito comunque i Bucks Omega questa gente qua che comunque era consolidata alla fine è andata over quindi adesso hanno già comunque un pochettino più su cui lavorare magari non persone titolate ovviamente perché non hanno perché in questo momento il titolo del mondo forse ancora un pochettino al di là della loro portata però nel giro secondo me di 5-6 mesi puoi proporre un Semigevara puoi proporre un Darby Allin puoi proporre un come posso dire Darby Allin contro Gerico l'hai già fatto ok si puoi riproporlo diciamo puoi proporlo fargli vincere anche il match quello intendo cioè Darby Allin contro Gerico non aveva alcuna speranza di vincere la contesa ha fatto però un'ottima figura no? ha fatto un'ottima figura puoi prendere un Jungle Boy puoi prendere un Lucius Saurus puoi prendere comunque tutta questa gente che in questo momento è in rampa di lancio sostanzialmente e poi lanciarla anche lanciarla nei piani altissimi della compagnia in questo momento non è ancora possibile perché comunque ci si sta anche molto molto lavorando però pian pianino pian pianino rispetto a dove eravamo sei mesi fa quanto meno abbiamo parte del Rosso che ha fatto dei passi da gigante oggettivamente dal punto di vista dell'essere over con il pubblico è vero che hai anche un pubblico che ti aiuta da quel punto di vista perché comunque il pubblico di Dynamite nelle rene anche se magari non è ampio dal punto di vista numerico è comunque sempre molto caldo per lo show quindi comunque ti aiuta a comunque ottenere un'ottima risposta dall'altro lato però comunque c'è effettivamente un lavoro dietro che sta oggettivamente funzionando ed è sotto gli occhi di tutti quanto meno di chi guarda lo show ma quantomeno alla fin fine vediamo che succederà tra l'altro secondo te chi è l'Exalted One che credo sarà rivelato presto perché comunque se è veramente ma tardi il contratto di scala del primo marzo lui dal giorno dopo tecnicamente è già disponibile in AEW quindi non credo che sarà rivelato tanto in là per quanto oggettivamente sentendo guardando poco non è che ti posso dire non è che ti posso dire con cose probabilmente ma tardi anche perché tanto con tutto il bene alla fine Matt in WWE non ci fanno niente non ci fanno niente cioè lo fanno solo menare da Randy Orton per esempio cioè allora mercoledì durante Dynamite hanno fatto un angle con gli SU che dopo essere stati eliminati dalla Battle Royale sono andati a menare Grayzone e l'altro e Evil 1 tra il pubblico e hanno fatto sì che praticamente lì in zona ripreso dalle telecamere ci fosse rete non l'hanno sottolineato al commento ma era talmente in camera che era chiaramente una cosa intenzionale mi viene da pensare che sia anche un depistaggio lo mettiamo lì la gente perché loro hanno detto l'Exalted 1 si sta avvicinando è più vicino di quanto pensiate l'ha messo lì apposta Raven per fare diciamo per far pensare che possa essere lui quantomeno diciamo non so come tradurlo in italiano l'Exalted 2 l'esaltato qualcosa del genere però non credo che sarà lui perché comunque se ribelli Raven nel 2020 chi se ne frega aggiungerei anche con tutto rispetto ovviamente per Raven però non credo che sarà lui credo che sarà comunque un nome grosso un nome grosso può essere Matardi e in secondo luogo se vogliamo Luke Harper però non c'è però anche lì non è un nome grosso sarebbe un buon colpo di scena anche quello però non credo che sarà non credo che sarà lui francamente magari può essere introdotto come parte della stable però non so se sarà rivelato lui come come Exalted 1 lui dovrebbe da voci che girano debuttare il 18 perché sono a dove è che sono in quella sono a Rochester se ricordo bene nello stato di New York e Rochester è anche la sua città natale quindi dovrebbe giravoce che potrebbe essere lì il debutto il debutto di di Brodely Harper in AEW vediamo poi gli altri match che annunceranno in settimana per questo pay per view il pay per view sarà nella notte tra sabato e domenica sabato 29 domenica primo marzo alle 2 ora italiana che dopo il pre show all'1 1 e mezza come 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 le altre volte come sempre i pay per view dell'AW come gli show di di Dynamite come Dynamite e come Dark sono disponibili legalmente in Italia su Fight potete comprarvi il pay per view se sia che abbiate AW Plus che non abbiate AW Plus su Fight.tv al costo di 19 dollari e 99 centesimi e AW Plus invece costa mi sembra 4,99 al mese avete tutte le puntate di Dynamite tutte le puntate di Dark disponibili in diretta e anche poi on demand dal giorno dopo tra l'altro senza interruzione pubblicitaria vedete anche quello che succede durante durante le pubblicità compresi anche gli smadonnamenti di Jim Ross se vi interessa ogni tanto Jim Ross si dimentica che sono in diretta su Fight e o dà istruzioni o dice parolacce cose così è tranquillo quindi ci può ci può anche stare però andiamo a dire che nelle ultime due settimane Jim Ross ha dato poco materiale a Bocciamania per la disperazione esatto per la disperazione di Mattia era diventato uno dei miei seguenti preferiti It's Ross Time diciamo a parte che più che altro a me fa morire da ridere l'intro è bellissima l'intro con il ritorno di Sasho Banks a livello di commento da parte di Michael Cole e Jim Ross che entra da sotto il tetra in No Mercy mi fa sempre molto ridere no ma le ultime due settimane hanno fatto un ottimo commento quindi quindi per la disperazione di Mattia e di chi guarda Bocciamania c'è poco materiale di Jim Ross da utilizzare a Bocciamania quanto meno quanto meno nelle ultime due settimane cos'altro da segnalare di Dynamite stavo guardando se abbiamo perso qualcosa di grosso 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 si sta si sta prospettando un match a tre o comunque una rivalità a tre per quanto riguarda il titolo femminile con Nyla Rose Chris Tatlander e Big Swole che si è intromessa diciamo nella questione magari faranno un match mercoledì la Statlander e Big Swole e la vincitrice a fronte a Nyla Rose poi a Revolution magari fanno un match a tre direttamente a Revolution lo scopriremo questa settimana altre cose grosse grosse non mi pare ce ne siano da Dynamite che sto saltando mercoledì per Dynamite abbiamo annunciato per NXT abbiamo annunciato niente questa settimana si Finbalor Finbalor che ritorna Finbalor che parla c'è Ciampa contro Austin Theory che può essere molto bello e basta altre cose non sono e poi tra due settimane c'è il cage match tra Tegan Nox e D'Akatakai esattamente mentre invece questa settimana per Dynamite abbiamo Pac contro Keny Omega in un Iron Man match di mezz'ora Sammy Guevara Sant'Anne e Ortiz contro i Jurassic Express in un Six Man Tag Team match e Butcher and the Blade accompagnati da The Bunny contro i Best Friends accompagnati dall'immancabile Orange Cassidy a bordo Ring questo è quanto per quanto riguarda Dynamite NXT in queste settimane è stato uno show strano non è stato uno show non è spiaciuto non è stato brutto però è una puntata post pay per view dove peraltro mancava tantissima gente di quelli che sono di quelli che sono praticamente apparsi a porta cioè come come sviluppi post take over c'è stato pochino francamente in questa puntata ti dico sai una cosa che mi è piaciuta c'è stato tanto tanto riempitivo che però era anche necessario a un certo punto perché comunque hai un po' di buchi da riempire a livello di divisione quindi comunque è logico che ci siano anche dei match di secondo piano è una cosa che mi è piaciuta è una piccolezza ma secondo me è una cosa che ha funzionato sì a me è piaciuto molto il fatto che hanno iniziato a promuovere i segmenti successivi durante la puntata nel senso dopo durante c'è il match e ti dicono comunque tra poco avremo questo match ci potrebbe questa cosa qui è buona cioè va bene perché comunque dai anche a una persona che non ti sta guardando qualcosa da ti stai dicendo che cosa arriverà tra poco diciamo che è buono però c'è anche il rovescio della medaglia diciamo di una cosa di questo tipo perché comunque se tu promuovi una cosa che non interessa a nessuno questi commenti non rimangono però è logico cioè comunque hai uno show che ti fa concorrenza è uno show con cui sei in guerra sostanzialmente che ti fa concorrenza in questo momento è giusto che tu comunque dici cosa sta per arrivare dopo di modo da non dare magari la possibilità di cambiare canale sostanzialmente facendo così la dai anche perché comunque se tu tra poco dici stanno arrivando con tutto rispetto O'Neill Orkan e Danny Burch magari ti ti dici ah chi se ne frega giro su Dynamite o giro sul dibattito o giro su giro su NBA o qualcosa del genere cioè è normale perché comunque non tutto può essere interessante però è giusto il ragionamento che fai è assolutamente corretto è logico comunque anche promuovere quello che sta per arrivare nel resto della puntata per quello scopo perché comunque i pro sono nettamente di più rispetto ai contro di un atteggiamento di questo tipo è una cosa che per esempio Dynamite fa Dynamite fa tranquillamente durante la puntata ti ricorda cosa sta per arrivare The Next It sta cominciando adesso effettivamente a farlo ed è una tattica che potrebbe poi anche pagare sul lungo termine ripeto è stata una puntata strana non brutta intendiamoci non brutta però a livello di sviluppi post pay per view alla fin fine molto meno del previso cioè per essere una puntata con il fallout da take over di fallout da take over c'è stato secondo me veramente poco in questa puntata è stata veramente una puntata di quelle che vedevamo un tempo cioè post pay per view cioè quelle che registravano prima praticamente di take over però su due ore con un pochettino di main event trasfarsi qua e là tipo il main event con Roderick Strong e Babbage in Dream che è stato un buon match forse un po' affrettato se vogliamo non so se hai avuto anche tu questa impressione mi hanno perso di nuovo Mattia mi sa no ecco mi fa ti sento no dicevo se hai avuto anche tu l'impressione che il main event fosse un pelino affrettato a livello di svolgimento sì 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 non mi ha fatto impazzire il main event più che altro una cosa che però ho apprezzato la cosa interessante è il dopo cioè comunque il fatto che abbiano menato Babbage in Dream che effettivamente fa pensare che Babbage in Dream sia prossimo per il titolo assoluto mi pare abbastanza più che altro sai cosa mi pare abbastanza scontato che sia lui il prossimo più che altro per esclusione perché comunque non c'è nient'altro esatto per esclusione poi l'ha vattuto tutti quindi no a parte quello poi comunque Ciampan Carcano vanno contro quindi cioè per esclusione per esclusione mi sa che non c'è molto altro su cui lavorare effettivamente a meno che non facciano Balor contro Cole ma sono due heal quindi chi se ne l'unica cosa l'unica cosa di l'unica cosa che si può dire in realtà cioè l'unica cosa che può far storcere il naso è che il Velvet in Dream in questo momento ha un personaggio palesemente cioè l'Hill Day 2 non è ti renderò cornuto e sono il face della faccina cioè sembra veramente e questo se lo ricordo ti ruberò moglie e figlio però sarà però sarà il tuo face quando io quando facevamo lo Universe io e Eric sì esatto e io avevo fatto la storyline con Tyler Breeze e la mamma di Tyler con Ziegler che aveva la gimmick di quello che si faceva alle mamme degli altri sì ed era il Babyface esatto sì esattamente e lo bucavo come se fosse un Babyface mandandolo contro l'Hill perché per la teoria che se un Babyface fa una cosa spregevole orribile però è Babyface lui ha ragione è vero anche se la cosa che fa è una cosa da Hill scusa è come il Face che tenta di ammazzare un Hill Roman Reigns che tenta di ammazzare Braun Strowman siccome andandogli contro con un camion Sheamus che ruba la macchina del Rio gliela distrugge gliela riporta tutta distrutta sì 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 hai ragione hai pienamente ragione hai pienamente ragione ma è una cosa è una cosa che comunque non è una roba che fa solo la WWE comunque nel wrestling è pieno di nella storia del wrestling e comunque nel wrestling in generale è pieno di gimmick di cose che palesemente da Hill fatte da da Hill che però vengono fatte da Babyface e vengono vendute come delle cose simpatiche e da da tifare e da apprezzare sì 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 cioè adesso per quanto riguarda i cover Tampa che tra l'altro hanno già cominciato a promuovere perché è andato in onda lo spot durante durante NXT quindi si sta giustamente è quello per il wrestling media quindi ci sta Ciampa Gargano secondo me sarà un loser di The NXT Match cioè il promo il promo che Ciampa ha fatto dopo aver distrutto di mazzate il proverso in tiri anzi dopo durante direttamente perché l'ha menato e poi è andato ancora a menarlo dopo lanciandolo tipo una settantina di volte contro il Gabriel cioè per cioè tipo non posso la frase non posso riavere la mia vita finché Johnny Gargano è qui a NXT mi fa pensare che si arriverà a quello cioè il match tra Ciampa e Gargano è l'ultimo a Tampa e il perdente di questo match non sarà più NXT e sarà Ciampa secondo me non penso che Gargano perda perché perché l'hai appena girato innanzitutto e perché comunque un Gargano il quanto meno è una cosa nuova a NXT Ciampa non voglio dire che abbia già fatto tutto quello che può fare onestamente a NXT però però non c'è ok batte Gargano e poi anche lì è il dopo quanto meno che mi lascia io non saprei cosa far fare a Ciampa nel mio roster e io non saprei cosa far fare a Ciampa a NXT però c'è il discorso è quello io anche quello a Ciampa a NXT ha fatto tutto ha fatto ha fatto di fare le stesse cose che faceva prima però da face non è molto sensato diciamo nel main roster nel main roster vedo meglio Ciampa che un Gargano non vedo bene tutti e due però Gargano io nel main roster non lo vedo bene francamente però magari sbaglio io magari la mia impressione è completamente sbagliata c'è completamente ragione anche perché è piccolo Gargano dipende anche poi dove lo mandi perché se lo mandi a Raw se lo mandi a SmackDown sì se lo mandi a SmackDown è un problema se lo mandi a Raw magari con Eiman Eiman uno come Ciampa te lo sa anche valorizzare magari e sa anche utilizzarselo diciamo a livello buono chiaro che non lo manderanno contro Rock Lesnar questo non ci credo anche se lo vedo però un Ciampa contro un Ciampa contro Mac e 3 si sono già affrontati a NXT non credo? no no mi sembra di no anche perché erano un tag team ai tempi però Ciampa contro Ricochet Ciampa contro Ricochet hai molta gente con cui lui può lavorare effettivamente molta gente che ha già affrontato a NXT però ha gente con cui lavorare io vedo meglio lui poi comunque per la storia secondo me ha più senso che Ciampa perda questo match contro Gargano anche perché Gargano gli ha persi quasi tutti i confronti a parte il Lansanction però nei confronti e anche nei confronti dove lui comunque non era coinvolto Gargano cioè la storia di Gargano è prenderla nel culo sostanzialmente se mi si passa il francesismo in questo caso però essendo girato il secondo me ha senso che vinca questo tipo di che abbia comunque la vittoria finale che è quella più umiliante perché comunque che altro sai cosa è la consecuziologica quando un babyface gira per mancanza di vittorie o perché è frustrato o perché non vince deve iniziare a vincere certo nel senso anche Demiz anche Demiz per quello che cioè comunque devono vincere i titoli il prima possibile l'hai girato perché perché era frustrato che non riusciva a vincere certo e quindi questo è quello che ti porta poi ad essere a vincere a ti abbandonare è un po' quello che diceva premettendo che dobbiamo ancora scoprire perché Gargano ha girato cioè il motivo del suo turn ti ricordi anche quando comunque avevano fatto provato a fare il turn la prima volta di Gargano se ti ricordi con Black e così via la storyline in teoria era che Ciampa gli diceva tu non riesci a vincere perché non tu inizierai a vincere quando passerai al lato oscuro esatto sì che è un po' anche quello che per esempio diceva Demiz a Brian che è la storia di Guerra Stellare sostanzialmente cioè Ciampa è l'imperatore Palpatine e Gargano e il giovane Anakin che viene corrotto come Demiz e Brian ti ricordi Demiz e Brian assolutamente quando Brian vince e infatti Brian Giroile vinse il titolo del mondo vinse il titolo subito tra l'altro vabbè no ripeto secondo me vincerà Ciampa questo tipo di confronto vedremo se sarà quella la stipulazione secondo me lo sarà come sarà quel tipo lì di stipulazione poi il dopo ovviamente lo si vedrà altre cose da NXT mi ha fatto ridere ovviamente il promo dei Browserweight che sono sempre molto i Browserweight sono con il trofeo beccato al Wellness Program non so neanche come funzioni una cosa di questo tipo però quindi non vedremo il trofeo per un mese praticamente ci avrà nascosto dentro la Cannabis o lo usava come Bong no lo usava per bere lui ha detto ha festeggiato un po' troppo come fai a utilizzare una coppa che è aperta come Bong in un modo o nell'altro sei un fattone si vero che è questo un fattone riesce a trovare qualsiasi modo quello è vero quello è assolutamente vero però di base è una cosa che mi lascia un po' perfetto cos'altro Kifli ha menato abbiamo avuto il ritorno di The Finest e l'avvio di The Finest quando è uscito ho detto oh mio dio ma vogliono veramente fare vogliono fare Kifli poi Kifli l'ho ammazzato di botte in 10 secondi ed è finita lì praticamente poi cos'altro c'è stato ah beh Chelsea Green ha vinto il match contro Kaelin Carter mi ha fatto ridere Bianca un po' chi se ne frega sì Bianca che interviene nel match a cazzo per sfidare Charles Fair che affronterà mercoledì a NXT tra l'altro vai sì 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 ho visto c'è stata un po' la serata dell'interruzione a cazzo perché abbiamo avuto quella e prima di quella abbiamo avuto Ciampa che era intervenuto beh Ciampa 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 sì Ciampa che era intervenuto prima in quello che doveva essere il match di Austin Theory sì e poi cos'altro da dire su NXT non molto altro da dire ah beh no il match cruiser match cruiser tra ah bello tra Leo Rush quello bello tra Leo Rush e Angel Garza molto continuo a dire Angel Garza perché sono convinto che Angel Garza sia il tercampione no è Jordan Devlin bello sì bello bello anche Jordan Devlin non ha avversario in questo momento purtroppo per la divisione non vedo non vedo altri cruiserweight face quantomeno pronti ad affrontarlo in realtà Garza potresti rifarlo il problema è che ormai Garza ma non è face in realtà era baby face cioè non si capisce no Corrush era l'heel della Faida sì però poi non si capisce perché quando ha vinto il titolo è vero hai ragione però quando aveva vinto il titolo comunque il pubblico lo acclamava la baby face però Leo Rush dei due quando erano in final loro due Leo Rush era face poi Angel Garza era il più lilish diciamo poi diciamo che la cosa non è spiegabile nel momento in cui tu fai vincere questo tra virgolette da hill e poi gli fai fare la proposta di matrimonio però è una cosa un po' bizzarra che vabbè a NXT si fa in questo momento non mi viene in mente nessuno va a mandare contro Devlin francamente come? no no neanche a me quindi non lo so e altre cose particolari sto pensando no credo che abbiamo detto tutto alla fine di questa puntata di NXT ebbene non è successo molto di NXT questa settimana magari con Balor magari il ritorno di Gargano e altre cose magari questa settimana avremo un pochettino più di ciccia a livello di contenuti contando anche che comunque lo show di Dynamite sarà particolarmente particolarmente carico perché comunque la puntata diciamo che però hanno NXT ha un vantaggio diciamo potenzialmente questa settimana e Dynamite ha un Iron Man Match e l'Iron Man Match è vero che dura tra virgolette solo mezz'ora però è anche vero che l'Iron Man Match storicamente fa perdere ascolti perché comunque guardi i primi minuti poi vai via e ritorni per il finale vediamo se questa volta sarà così se effettivamente perderanno ascolti durante questo segmento se magari non li perderanno vediamo cosa vediamo cosa succederà praticamente durante Dynamite poi ci sono altri match però comunque è l'ultima puntata pre-paper-view poi i paper-view sarà sabato tra sabato e domenica per noi italiani cose clamorose da segnalare di notizie non mi pare che abbiamo grosse notizie no? di questa per questa settimana e allora vediamo un po' vediamo un po' cosa cosa possiamo vedere l'ho fatto il post del Q&A non lo so mi sono clamorosamente dimenticato avevo fatto la bozza ma poi non l'ho messo nella pagina quindi mi sono clamorosamente dimenticato e chiedo scusa vediamo è arrivata una domanda tramite Whatsapp vado un attimo a prendere diciamo l'app e andiamo a vedere cosa c'è cosa c'è arrivato perché ci sono arrivate due domande che volevo effettivamente leggere da tutte le stesse persone peraltro però sono due domande che volevo leggere eccoci qua allora da Angelo da Vicenza eccoci qua buon weekend domande per il prossimo caffè vi è piaciuto Dream contro Strong a me no sinceramente mi aspettavo molto di più mi sembra quanto arrugginito spaisato sul ring sarà lui il prossimo finante di Cole per me sarà Ballor l'unico stato così lato beh l'ha detto prima match allora non ho trovato Dream messo male francamente ho trovato un match un po' affrettato quello si ma non è un brutto match Ballor contro Cole l'ho detto prima sono due heal e poi l'hai già fatto esatto parte quello ma poi ripeto cioè è vero che Cole non ha vinto pulito con l'intervento di Coso però il contro heal è vero che next team ha una rarità comunque il contro healing di solito non penso non penso lo facciano quanto schifo fa invece Smackdown troppo c'è un video di Max is awesome che dice che Smackdown è pessimo andatevelo a vedere vi ritrovate tutte le vostre risposte forse solo il periodo con male Carmella Campione era peggio Roy invece dall'inizio non sbaglio una puntata sì non sarei così largo però sì effettivamente Roy è uno stato migliore Roy è bello Roy è bello Roy durasse un'ora in meno sarebbe un ottimo ne parleremmo tutti come un ottimo show Roy è uno show Roy è uno show migliore effettivamente rispetto a Smackdown ma non ci vuole non ci vuole molto grazie è stato in abbondanza durante il post show il post show di martedì non ho altro a livello di notizie particolarmente importanti della settimana non c'è nient'altro da aggiungere quindi direi che possiamo anche fermarci qui questa settimana con un'ora e quarantacinque di podcast grazie incredibile incredibile tra l'altro no no è incredibile che finiamo così presto ah beh sì per i nostri standard per i nostri standard per i nostri standard grazie a Mattia di noi grazie a voi ci sentiamo settimana prossima e ancora una volta se ci ascoltate nelle zone quelle in quarantena vi siamo vicini speriamo che questa cosa speriamo che questo potremmo non rivedervi più ma no scherzo speriamo che questo allarmismo questo allarmismo si si no ripeto ripeto è giusto essere è giusto essere preoccupati è giusto allora è giusta la preoccupazione però diciamo che si sta un attimo esagerando sì sì molti aspetti secondo me ma non ma detto non solo lì cioè in generale no 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 in generale le psicosi hanno facilmente fanno facilmente presa qua qua in Italia quindi per un motivo o per l'altro non so neanche dare anche perché poi se vai a vedere quanti morti ha fatto l'influenza un mese fa ne ha fatti tipo il triplo il quadro esatto il coronavirus va bene almeno in Europa poi se vogliamo parlare di quello che è successo in Cina ragazzi ricordatevi anche che hanno un sistema sanitario che fa abbastanza schifo in Cina quindi non è che devi anche vedere il sistema sanitario e come sono messi certe cose no notavo adesso che l'account della WWE su Twitter ricorda che oggi è il decimo anniversario della nascita di NXT inteso il primo il brand NXT poi nel 2012 ha preso una direzione completamente diversa però ufficialmente il nome NXT è nato con la prima puntata il 23 febbraio 2010 con la prima puntata dello show del reality show praticamente che ai tempi era anche una cosa abbastanza diversa all'inizio si ripeto al solito poi ben presto ben presto divenne altro anche se aveva la team song più odiata della storia del nostro sport Wild and Young we are wild and young visto che dovevi fare poi non abbiamo fatto le traduzioni delle team song potresti partire con noi siamo giovani e selvaggi giovani e selvaggi e abbiamo appena iniziato esatto esattamente in realtà guarda sai cosa dovresti fare anche non è direttamente una film song di wrestling però dovresti fare la traduzione la cantata della sigla di Smackdown che secondo me rende particolarmente bene siete pronti siete pronti per la festa no per la festa diciamo potrebbe andare no no a me piace farle letterali quindi siete pronti per i bei momenti perché perché renderle italianizzate con un italiano correggiuto usiamo andiamo letteralmente che letteralmente vengono ancora più belle va bene perché Michael è un mio amico guarda che gliele mando ancora quelle tradotte ho fatto quella di The Big Show e quella ti va andando il grande show è arrivato il grande spettacolo esatto va bene beh preparatevi a qualcosa che voi non saprete non lo vedrete arrivare va bene ma vi promettiamo che lo saprete ok il grande spettacolo va bene oppure c'era anche quella di Van Damme si che era uno di un tipo uno di un tipo uno di un tipo scusa è quella scusa è quella che ho usato poi in TNA come come la tradurresti è Rob Van Damme tu 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 il grande potuto show il grande potuto show tu 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 esatto Rob Van Damme tu 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 va bene così e poi non mi ricordo come facciava cambiavo un paio di volte Van Damme Van Damme Van Damme Van Damme Van Damme Van Damme Van Assassinator esatto Van Assassinator diciamo i nomi diciamo i nomi delle mosse praticamente si va bene gli appuntamenti per chi ci sta ascoltando di lunedì questa settimana abbiamo il post show di Raw il martedì quindi alle 23 dopo le partite di Champions League martedì mercoledì l'appuntamento con la Champions League sul nostro canale Punto di Cento su TuneIn martedì Napoli-Barcellona mercoledì invece Lione-Juventus giovedì la live reaction sul canale di Maxis Awesome di Super Showdown e forse entra Dudo Gore alle 21 sul nostro canale ma vediamo naturalmente sempre che lo facciano ovviamente cos'altro il Back in the Day adesso dobbiamo decidere il giorno di uscita potrebbe essere mercoledì il giorno di uscita del podcast lo registriamo questa sera però mercoledì dovrebbe essere il giorno di uscita esclusivo per il Patreon a livello da 6 dollari e poi il prossimo weekend tra domenica e domenica nuova puntata di Rest in Cafè alla sera faremo Juventus-Inter dei pallonari poi a mezzanotte uscirà una nuova puntata del nostro podcast per i Patreon ovviamente uscirà nel pomeriggio di domenica perché noi lo registriremo e parleremo prevalentemente di AW Revolution perché comunque sarà proprio a poche ore dalla disputa del pay per view dell'AW grazie ancora Mattia di noi grazie a voi che ci avete ascoltato grazie a voi grazie ancora agli studi bunker di Tbilisi che ci ospitano ma non ci sono studi a Tbilisi non c'è neanche il pubblico basta con questa cosa che non è vera speriamo di riavere il nostro pubblico nelle prossime settimane non c'è nessun pubblico non c'è nessun pubblico da riavere grazie per averci ascoltato facciamo ancora pubblicità per le nostre care amiche esatto di agomiti alti che escono domani su Springer alle 2 e mezza su Springer non so che cosa e Stitcher Springer, Stitcher, Google Play, iTunes tutte le varie pietrofome dove ci siamo anche noi tra l'altro esatto speriamo di riavere presto il nostro pubblico in studio esattamente esattamente quindi come detto siamo martedì con Raw esatto e giovedì con live reaction lo ho detto prima sul canale di Max di Max Isos esattamente dalle 18 con Super Showdown con il caffè invece torniamo tra domenica e lunedì prossimo grazie per averci ascoltato buona settimana alla prossima ciao